Bene, ci sono venuti quattro mesi ed oltre per una vera rivoluzione, perché questa Versiliana del 2011 parte proprio rivoltata come un calzino, anche se non sembra. Gli obiettivi sono importanti, anche se alla luce di quanto è avvenuto nello scorso anno c'è da rimettere a posto un po' di cose. Ne parliamo con Marco Nicolai, direttore della Versiliana, il sindaco ha lavorato bene negli ultimi giorni, nuovo consiglio, nuovo consiglio di indirizzo, nuove persone, direttore artistico o quello che sarà ufficializzato tra breve. Si parla però anche di bagni per poter prendere poi finanziamenti, è una vera rivoluzione. In sintesi quali sono i elementi preponderanti? Diciamo che noi abbiamo avuto questa sofferenza per fare consiglio di amministrazione, ora finalmente ci sono, oggi c'è il primo e penso entro il 15, che è un sabato, dovremmo chiudere anche il bilancio con tutto il canovaggio dell'infrastrutturazione artistica e funzionale. E quindi su questo ormai siamo partiti. La rivoluzione nostra, il primo anno è una rivoluzione molto sulla carta più che sul fatto, perché poi ci vuole molto più tempo, bisogna riprendere i contatti. Si prevede gli effetti, vieni. Però diciamo che già nel 2011 dovremmo fare dei cambiamenti che sono quelli da un lato di una qualità più alta nel quanto riguarda gli spettacoli, che saranno di meno. È una serie di iniziative molto più mirate, soprattutto nella sera, per esempio la Sarta dei Saperi sta venendo fuori questa idea forte. E dall'altra di avere delle partnership molto forti dal punto di vista anche dei media che possono darci una mano stessa. Chiaramente tutto questo va ragionato nell'ottica di ritrovare molti più fondi, quindi più soldi da privati per quanto riguarda l'aspetto, e di collegarci strettamente a quello che è il brand di Pietrasanta, che per conto mio è molto forte. E quindi abbiamo detto al Comune di Pietrasanta che siamo a disposizione come servizio per cercare insieme a loro di organizzare e di gestire tutte quelle iniziative che sono molto belle e che partono fondamentalmente dalla primavera fino a tutto l'anno con Pietrasanta, penso a Anteprime e altre. Quindi un impegno notevolmente forte. L'impegno che si arricchirà con due strutture, una sicura è il teatro comunale e l'altra che abbiamo detto che per noi diventa strategico, che è il bagno di Pietrasanta, perché il bagno di Pietrasanta è un bagno che è legato alla versigliana, quindi per noi diventa estremamente importante non solo sul piano economico, ma anche sul piano delle immagini, perché abbiamo la pineta e finalmente anche il mare. Su questo c'è una trattativa in corso con Pietrasanta Sviluppo e vediamo quali sono le aspettative. Nostre sono quelle di averlo, il Comune c'è a capire, però diciamo che nel 2012 si dovrebbe sciogliere anche questo tipo di nodo. Quindi questi sono un po' gli aspetti della nostra versigliana 2011 che, devo dire, ha già contato un buon risultato nella stagione di prosa invernale, soprattutto riportando moltissimi giovani al teatro e partiamo con il 15 di gennaio, con gli incontri invernali e partiamo con la Margherita Hack che porta la sua presentazione del suo ultimo libro, ma soprattutto è una chiacchierata che farà nei confronti dei giovani sul problema della scienza, sul problema della visione del mondo, che è una visione certamente laica, ma anche per certi versi, anche molto legata allo spirito e al sentimento di tempi che non sono certamente i migliori. Ecco, si parla anche di fondazione come produttrice di spettacoli. Sì, quello di produrre gli spettacoli, sì, di coprodurli, diciamo. Stiamo prendendo rapporti con i grandi centri, diciamo così, teatrali nazionali, gli stabili per intendersi. Questo c'è un aspetto, uno deve avere un prodotto di grande qualità, ma dall'altro anche di avere e dare una mano perché il teatro, il teatro di qualità, possa rinascere e chiaramente per far questo occorre dare anche degli spazi disponibili per le produzioni che vengono fatte a livello nazionale. Noi vorremmo portare avanti questo, portarlo avanti anche in una centralità toscana, perché c'è questo grande polo teatrale di Prato, che per noi diventa molto interessante e importante, ma anche gli altri, penso a Milano, a Roma e altro. Questo è un'ottica anche di possibilità di introiti da parte del Ministero? Questo anche per quanto riguarda le contribuzioni del Ministero, perché il Ministero chiede che per partecipare al Fusso occorra perlomeno delle prime nazionali, quindi questo è forza delle cose. Già quest'anno, per esempio il 15, abbiamo Pugni in Tasca, che è una prima nazionale che viene fatta al Teatro Comune di Pirasanti. Tentare di fare questo vuol dire riportare la cultura del teatro. Poi in definitiva ci sarà anche un abbassamento netto dei prezzi di ingresso per quanto riguarda il teatro estivo, no? Noi, è un nostro pensiero giusto quello di far abbassare i prezzi, ma non perché erano troppo cari, perché riteniamo che in momenti come questo bisogna dare la possibilità veramente di partecipare agli spettacoli di qualità con prezzi giusti, anche se chiaramente siamo consapevoli che non è che possono essere fatti a gratis, però chiaramente un costo basso. Questa è la filosofia, meno biglietti e omaggi, abbassiamo i biglietti e aumentiamo il pubblico. Questa è la nostra sfida. Bene, grazie.